Indipendentemente dalle reali cause che hanno portato al decesso della settantenne salernitana colpita da infarto in via Monti, resta il problema della sosta selvaggia, soprattutto nelle ore serali della Movida, un problema sul quale da tempo i residenti hanno sollecitato interventi. La sosta selvaggia è un problema molto molto radicato in quella zona, in quanto in alcuni giorni della settimana, in alcuni periodi dell'anno, purtroppo siamo costretti a subire la presenza di persone non residenti che occupano pochissimi posti auto a disposizione dei cittadini occupati dai non residenti. Cosa si può fare in quella zona? Già qualche settimana fa i carabinieri sono intervenuti di notte, soprattutto di notte è fondamentale l'intervento fatto di notte. Nelle scorse settimane ci sono stati dei controlli di carabinieri e polizia municipale, ma il problema necessiterebbe di interventi radicali, come l'introduzione di una nuova ZTL soltanto per via Monti, un progetto sul quale sarebbe lavorando il comune di Salerno a rivelarlo il consigliere comunale Pessolano, riferimento nonché residente di quella zona. Quella sarebbe l'idea mettere via Monti al di fuori delle altre ZTL, e quindi crearla ad hoc, magari con una fascia oraria, magari dando qualche possibilità in più a livello di autovetture, perché non dimentichiamo che comunque ci sono dei garage su privati. Essendo poi un quartiere abitato da persone anziane, dare la possibilità ad un parente di poter andare a trovare la mamma o il papà o un familiare, penso a dei nipoti che vanno a trovare i nonni, penso che non possiamo escludere questo tipo di intervento per la morfologia della strada, perché essendo salita o altrimenti fare in modo che la scala mobile che serve appunto via Monti e via Indipendenza rimanga aperta a H24. Le immagini tratte da Youtube sono di tre anni fa, ma quello che accadde allora si è riproposto, drammaticamente domenica notte, quando un'autombulanza è rimasta bloccata in un'operazione mentre tentava di prestare soccorso ad un'ex professoressa. L'anziana si era sentita male a luna e trenta di domenica notte nel suo appartamento di via Madonna del Monte, al numero 7. Per raggiungere l'autombulanza è impiegato 15 minuti in più del dovuto, perché ha dovuto districarsi fra le auto in sosta. Quando i soccorritori sono arrivati poi a piedi e con il supporto di due pattuglie dei carabinieri era troppo tardi e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Molto probabilmente nulla avrebbero potuto fare, anche arrivando prima, ma quanto accaduto ripropone un problema da anni denunciato dai residenti di Via Monti a Salerno. Molti i casi che vengono raccontati e qualcuno ricorda quando anni fa fu una diciassettenne a perdere la vita per l'impossibilità di un mezzo di soccorso di raggiungere la sua abitazione, dove fu stroncata da onoreurisma.